bella a tutti i free readers bentornati a questo appuntamento con spliff break oggi aggiorniamo su quello che in queste settimane in questi mesi sta accadendo in colombia importantissimo infatti pochi mesi fa si è insediato in colombia il nuovo presidente petro e insomma subito nei tavoli di discussioni internazionali con i vari stati uniti discussioni importantissime si è messo un raffronto importante un rapporto importante per quanto riguarda la war on drugs e il nuovo presidente della colombia petro ha le idee chiarissime andiamo a vedere la sua dichiarazione ha detto testuali parole che la democrazia morirà se non si agirà subito contro il proibizionismo a favore delle persone è chiara la posizione quindi contro il narcotraffico da una parte ma contro soprattutto il proibizionismo quindi bisogna sicuramente cambiare passo e questo la colombia vuole essere in prima linea per farlo soprattutto nel sud america anche se in realtà l'uruguay ha già regolamentato ma chiaramente le proporzioni della risonanza di una eventuale regolamentazione in colombia sarebbero gigantesche dati varie situazioni anche di rinomanza piuttosto negativa internazionale dei vari cartelli eccetera eccetera ma comunque è importante parlarne e soprattutto diffondere questa cosa che sta succedendo in colombia come detto nei tavoli tecnici di rapporto con gli stati uniti è stata rilanciata la necessità di combattere la war on drugs in stati uniti insomma sono sono sempre un po reticenti su questo lo sapete anche se danno la disponibilità ai singoli stati di legiferare ma tramite referendum o tramite legislatori locali non prendono posizione a livello federale la colombia vuole farlo e allora ha incaricato una commissione di legislatori per valutare se sia meglio regolamentare o no nel paese e pensate ieri è arrivato il voto decisivo di questa commissione schiacciante un 31 a 2 per i favorevoli quindi ora la colombia si vuole indirizzare in un percorso di regolamentazione totale andare a studiare insieme con tutte le varie commissioni con i vari esperti una proposta di legge che dovrà comprendere uso adulto uso medico distribuzione possesso e tutte le varie sfaccettature come noi abbiamo già fatto metto sempre questa parentesi col manifesto collettivo use cannabis che stiamo cercando di depositare nuovamente il parlamento perché purtroppo ogni legislatura va depositato se sono a farlo i parlamentari in nome dei cittadini purtroppo ha questa la burocrazia istituzionale italiana e la colombia sta lavorando anch'essa in questa direzione allora anche noi vedremo quando è una volta elaborato questo testo di legge intanto di vedere di supportare a livello internazionale questa diffusione soprattutto di vedere come verrà scritto per magari prendere spunto per ampliare il nostro perché è fondamentale sempre essere connessi a livello internazionale per cercare di risolvere e porre fine una volta per sempre a questo ridicolo proibizionismo bella tutti i free readers fatemi sapere cosa ne pensate e grande colombia grande pietro bella tutti i free readers fino a libertà ciao ciao ciao